In Padella con il nostro caro sole abbiamo cucinato. Anche quest'anno la BCC di Fano presenta con grande orgoglio il lavoro espresso dalle cooperative scolastiche durante l'anno scolastico 2015-2016 nell'ambito del progetto regionale Crescere nella Cooperazione promosso dalle BCC marchigiane in collaborazione con Regione Marche, Conf Cooperative e Università di Urbino. Sul palco della Sala Verdi del Teatro della Fortuna si sono alternate le quattro associazioni cooperative due provenienti dall'Istituto Marco Polo di Cartoceto, una dall'Istituto Maestre Pie Venerine e di bambini della Scuola Fadi Bruno di Marotta. Grande orgoglio, grande entusiasmo perché i ragazzi trasmettono entusiasmo oltre che passione, questo è importante quindi i valori della cooperazione sono fondamentali, sono cooperazione di impresa quindi c'è anche un discorso di laboratorio di idee, di progetti imprenditoriali, piccoli però voglio dire sicuramente che sono importanti e poi insegnano ai ragazzi a lavorare insieme, a mettersi in relazione tra di loro principalmente ma anche nei confronti dei clienti e verso tutta la comunità. Incontrare queste scolaresche che poi sono organizzate in cooperative è una cosa molto bella perché ogni anno ci sono novità, ognuno racconta la propria esperienza quindi veramente è da promuovere, è da continuare perché forse l'investimento più importante della nostra cooperativa, crescere nella cooperazione.